buondibattaste.it, fan di Chris Ware, fan italiani di questo autore rivoluzionario per il medium fumetto, da anni state aspettando le nuove opere di questo fumettista, Bao ci ha promesso ormai tanti anni fa Building Story in italiano, forse proprio un oggetto, non un fumetto complessissimo da editare, quindi chissà, si vedrà mai, non lo sappiamo. Coconino, l'ha annunciato Rusty Brown, ma anche qui ogni fumetto di Chris Ware è un lavoro di design che richiede cura per restituire la minuzia anche visiva e grafica dell'opera originale, quindi in attesa di questi nuovi lavori in Italia, Coconino ripropone Jimmy Corrigan, il ragazzo più in gamba sulla terra, in una nuova edizione deluxe cartonata con una sovracoperta di cui poi vi andrò a parlare alla fine, perché devo smontare questo oggetto, quindi lo tengo per il gran finale, visto che dopo non saprò più rimetterlo assieme. Jimmy Corrigan, il ragazzo più in gamba sulla terra, è considerato da alcuni grandi fumettisti, da critici, uno dei fumetti più raffinati, una pietra migliare per il medium fumetto. E se non l'avete mai letto, questa edizione deluxe, realizzata per i vent'anni della casa editrice Coconino, come ci dice questo bel bollone dorato, è l'occasione per recuperarlo. Su, cosa stavi aspettando? Avete letto fumetti di ogni tipo? Questo è il modo per scoprire qualcosa di nuovo, un balzo per il fumetto, in avanti in realtà anche all'indietro, perché Chris Ware guarda il passato con questo fumetto. Tutto è molto squadrato. Le tavole sono squadrate, sono questi quadrati più grandi o più piccoli che definiscono il tempo come solo il fumetto sa fare, un montaggio, una scansione del ritmo, se le vignettine sono piccoline, con tanto testo o se sono grandi. Il lettore intuisce l'andamento del racconto, della storia, pur non essendo un medium di movimento, come può essere il cinema o la televisione. È lui nella sua mente a capire l'atmosfera suggerita dall'autore. In queste tavole molto squadrate che riprendono un po' lo stile, soprattutto all'inizio ci sono delle soluzioni grafiche che richiamano i grandi fumettisti di inizio novecento, come Frank King, Winsor McCay con Little Nemo, però all'inizio ci sono degli espedienti grafici con titoli, con l'utilizzo dei font che vuole richiamare i fumetti da cui tutto è nato. Perché Jimmy Corrigan, il ragazzo più in gamba sulla terra, è un grande salto nel tempo, è un'epopea americana che attraverso un personaggio e la sua dinastia ci racconta l'America, è uno stratagemma forse già visto, ma se realizzato con cura è senza dubbio efficace. Jimmy Corrigan, il protagonista, chi è? Jimmy Corrigan è questo ometto trentenne o poco più, calvo, con un'espressione sempre triste, con le sopracciglia all'insù, in questa espressione contrita, di sorpresa, ha fatto un incidente quindi va in giro con una stampella, apatico, non riesce a comunicare con gli altri, quindi sembra proprio un disadattato. E questo giovane uomo, giovane in realtà alla nagrafe, ma neanche tanto, però come modo di vivere dimostra praticamente il doppio della sua età, quest'uomo che ogni giorno telefona a sua madre, un giorno viene contattato dal padre. Il padre che lui non ha mai conosciuto lo contatta telefonicamente e gli propone di incontrarlo. Jimmy Corrigan accetta senza neanche pensarci troppo su, riceve un invito quindi obbedisce, è un ignavo, non sa dire di no, quindi viaggia attraverso l'America e si ritrova a conoscere questo nuovo padre che lui non ha mai visto prima. È il modo per relazionarsi con una persona, cosa che Jimmy di solito non fa, è un modo per fare i conti con il suo passato, con il luogo da cui proviene e con le generazioni precedenti alla sua. Scopriremo anche cosa è successo nella famiglia Corrigan, il nonno, il bisnonno addirittura, e come tutti questi caratteri, questo albero genealogico, psicologico, sia confluito in questo esserino reticente che non riesce ad avere relazioni sociali normali. In tutto ciò, la storia che ci mette un po' a ingranare, è molto lenta, ma siamo di fronte a un volume di quasi 400 pagine, quindi c'è tutto il tempo per appassionarsi, non abbiate fretta, non giudicatelo lentamente. In tutto ciò, anche se la storia appunto ha bisogno dei suoi tempi, alla fine soddisfa, alla fine abbiamo il quadro generale di cosa ci è stato raccontato, però l'importante non è la meta, ma il viaggio, nel frattempo abbiamo modo di perderci nelle soluzioni grafiche che Chris Ware adotta nella sua storia. Ci sono tavole, ora non posso pescare fra 400 pagine, quello che il fato mi regalerà, ve lo mostro. Quindi, come vedete, ci sono tavole come queste, oppure mi è pescata sotto mano quest'altra, in cui il fumetto viene utilizzato, anche gli spazi tra le vignette, oppure ci sono degli elementi di cartotecnica. Questo, per esempio, è una casetta che potrebbe essere tagliata per costruire un modellino, ma sfido chiunque a tagliare questo volume così bello, proprio matericamente sofisticato. Ecco, anche qui un altro che mi è capitato, qui c'è un esempio di possibile ruota animata, se volete far muovere questo personaggino. Le atmosfere sono risolanti, questo omino che cammina da solo, prova a interagire, come lui anche i suoi progenitori, ma il filtro, quel muro di gomma fra le persone genera una stirpe familiare, complessata, che porterà anche a dei vivi bizzarri, e una personalità, quella di Jimmy Corrigan, anche visionaria. Jimmy ha delle visioni, non durano una o due vignette, sono delle intere tavole con dei sogni lucidi che Jimmy ha, all'inizio non capiamo cosa è dire cosa no, nel corso della lettura questo diventa un elemento ricorrente che scandisce anche la narrazione. Quindi a un certo punto dubitiamo di qualunque cosa ci venga raccontata, non perché c'è un narratore poco affidabile, ma perché la cifra stilistica di questa narrazione è inframezzata da queste visioni che non capiamo. Quindi è una lettura che fa lavorare le rotelle dentro la testa del lettore, che si deve impegnare per mettere assieme quei pezzi di puzzle. Chi conosce Building Stories sa, per esempio, che è un libro oggetto che è proprio fisicamente una storia da comporre. Ora, questo non succede fisicamente, però, conoscendo Building Stories, ho riconosciuto quel processo creativo, quel processo creativo che viene lasciato al lettore, non il processo creativo dell'autore. Quel processo creativo stava succedendo nella mia testa durante la lettura, quindi Chris Ware non vuole fare tutta la fatica a lui, vuole lasciare molto al lettore, vuole lasciare molto anche con... ora posso scartonare, scopertinare questo albo, con questa copertina di questa nuova edizione di lusso che rappresenta un po' la complessità di Chris Ware, perché è un poster che va girato, osservato, ci sono tante piccole storie, ci sono delle istruzioni, ci sono delle scritte, insomma... come funziona? Immaginatevi quelle complesse mappe del tesoro che bisogna cercare di capire da che parte... ah, ok, quindi non c'è un unico verso, non c'è una direzione in cui si legge questo poster e la stessa cosa in realtà succede anche qui dentro, per certi versi, quindi potete perdervi e capire come... cosa Chris Ware voglia che voi facciate. In realtà vi lascia molto spazio e c'è un'altra copertina che avvolge il libro, sono i risguardi che raccontano due storie diverse, c'è la grande storia interna che è quella di Jimmy Corrigan, il ragazzo più in gamba sulla terra, ma prima c'è... guardate quanto testo... prima c'è una sorta di manuale di come si leggono i fumetti, che mi è piaciuto molto, utilizza un linguaggio forbito, eccessivamente forbito, fa parte del fascino dell'operazione e prima di iniziare poi a leggere il fumetto, anche qua guardate che cosa bizzarro, il fumetto non si inizia a leggere normalmente ma da subito per essere letto deve essere girato, quindi richiede fatica, bisogna fare... cioè bisogna usare i muscoli, da subito Chris Ware richiede uno sforzo e poi G-Roll di nuovo. Fin dall'incipit si capisce che non sarà un fumetto come tutti gli altri. Vediamo inizialmente i supereroi perché nelle visioni di Jimmy, del padre, la figura del supereroe ricorrente, metaforica, scoprirete in che senso, fino ad arrivare al finale, le ultime due pagine, una volta finito il fumetto, le ultime due pagine sono una sorta di postfazione che ci svela la natura autobiografica di questo fumetto. Il fumetto è stato pubblicato inizialmente da Chris Ware sulle pagine di Un Quotidiano, poi è diventato questo oggetto complesso ma la natura autobiografica della storia anche Chris Ware non aveva mai conosciuto suo padre e durante la pubblicazione di questo fumetto ha ricevuto una telefonata e vi lascio scoprire cosa è successo perché anche se a fronte delle 300 e passa pagine che ci sono prima, queste sono solo due paginette, c'è una storia nella storia intrigante. Ora, non vi posso rifare vedere la copertina perché ci metterei mezz'ora a ripiegare questo origami, sono negato, però se non avete mai recuperato Jimmy Corrigan, il ragazzo più in gamba sulla terra, avete visto. Se non vi accontentate di leggere i fumetti da pagina 1 a pagina 30, a pagina 60 e così via, ma volete astrocchiare, volete immergervi in un fumetto e capire come l'autore lo destruttura, fa qualcosa che non potrebbe essere raccontato in nessun'altra forma, in nessun altro medium. Non riesco a immaginarmi Jimmy Corrigan raccontato in una forma cinematografica perché ci sono degli aspetti che mi ricordano quasi l'episodio di Dr. Manhattan in cui tutto accade in contemporanea, c'è anche una scansione del tempo che non può succedere, non può essere mostrata visivamente. Per l'estetica raffinata, tutto molto squadrata, mi viene in mente, che ne so, un film di Wes Anderson, ecco, qualcosa di iper stilistico in cui la forma ha il sopravvento sul contenuto. Sabe carino, un film di Wes Anderson su Jimmy Corrigan con un Bill Murray protagonista, con quest'aria sconsolata, le sopracciglia all'insù, sempre striste. Però no, niente, ragazzi, i fumetti riescono a farvi viaggiare in luoghi che altrimenti non potreste visitare, mi spiace, cinema, televisione. Dovete rassegnarvi il fumetto. La vince ancora. Quindi se volete osare avventurarvi in tutto questo, Jimmy Corrigan, il ragazzo più in gamba della terra. Con anche questo.